pirandello risposta ti sei sfogato bene amico mio veramente è da rimpiangere che tu facendo violenza alla tua nativa disposizione non abbia potuto dedicarti alle muse quanto calore nelle tue espressioni e con quale trasparente evidenza in pochi tocchi fai balzar vivi dinnanzi agli occhi luoghi fatti e persone sei addolorato sei indignato povero marino mio e non vorrei che questa mia risposta ti accrescesse il dolore e l'indignazione ma tu vuoi che io ti esponga francamente quel che penso del tuo caso lo farò per contentarti pur essendo sicuro che non ti contenterò seguo il mio metodo se permetti prima riassumo in breve i fatti poi ti espongo con la franchezza che desideri il mio parere dunque con ordine primo persone connotati e condizioni a la signorina anita 26 anni e dimostra appena 20 va bene ma sono intanto 26 personati bruna occhi notturni e gli occhi suoi la notte si raccoglie profonda labbra di corallo e va bene ma il naso amico mio tu non mi parli del naso alle brune innanzitutto guardare il naso e segnatamente le pinne del naso io sono sicuro che la signorina anita l'ha un po in su non dico brutto diciamo anzi nasino ma in su e con due pinne piuttosto carnosette che le si dilatano molto quando serra i denti quando fissa gli occhi nel vuoto e trae per le nari un lungo lungo sospiro silenzioso hai notato come gli occhi le si velano e le cangiano di colore quando trae qualcuno di questi sospiri silenziosi ha molto sofferto la signorina anita perché molto intelligente era agitata quando il padre era vivo ora morto il padre è povera è 26 anni nasino ritto e occhi notturni andiamo avanti il mio amico marino 24 anni due di meno della signorina anita che forse perciò ne dimostra appena 20 povero anche lui orfano di padre anche lui cose tristi ma care quando si hanno in comune con una persona cara identità che paiono predestinazioni ma l'amico marino orfano e povero come alla mamma e una sorella da mantenere orfana e povera la signorina anita anche lei la mamma ma non la mantiene pensa il mantenimento il commendatore ballesi il mio amico marino odia naturalmente questo commendatore ballesi testa accesa cuore ardente facilissima loquela colorita affascinante come lo sguardo dei begli occhi cerulei diciamo che il mio amico marino è il giorno e la signorina anita è la notte quello ha il biondo del sole nei capelli e il cielo azzurro negli occhi questa negli occhi due stelle e nei capelli la notte mi pare che parlando con un poeta non potrei esprimermi meglio di così proseguiamo costretto dalla necessità ad essere saggio l'amico marino non può commettere la follia finché durano le presenti condizioni dureranno per un pezzo di assumersi il fardello di un'altra donna e deve lasciare quella che meno gli peserebbe forse questo terzo peso gli farebbe sentir più lievi quegli altri due che gli non può ne oserebbe mai togliersi di dosso ma c'è chi pensa che in tre sulle spalle di uno non si può star comodamente di buon accordo e anche egli saggio per forza deve riconoscerlo e come il dottor ballesi vecchio amico della buonanima si intende del babbo di anita 66 anni piccoletto fino fino gambette come due dita ma armate da tacchettini imperiosi testa grossa grossi baffi spioventi sotto i quali sparisce non solo la bocca ma anche il mento dato che si possa dire che il commendatore ballesi abbia davvero un mento folte ciglia sempre aggrottate e un dito spesso nel naso quel dito pensa pensano anche i peli delle sue sopracciglia è come un cannoncino carico di pensieri il commendatore ballesi le sorti finanziarie della nuova italia sono nei suoi piccoli pugni ferrigni ora non si sa come né perché tutt'a un tratto il commendatore ballesi ha creduto di dover cangiare l'amor paterno per la signorina anita in un amore d'altro genere e la chiesta in nisposa la signorina anita ha strappato parecchi fazzoletti con le mani e coi denti più che sdegno ha provato onta ribrezzo orrore la mamma ha pianto perché ha pianto la mamma per la gioia ha detto ma di gioia ha ammesso che si pianga si piange poco e poi si ride la mamma della signorina anita ha pianto molto e non ride più ogni sua chi mali pens e veniamo all'ultimo personaggio nicolino respi 30 anni solido atletico nuotatore e cavalcatore famoso cannottiere spadaccino e poi impudente ignorante come un pollo d'india biscazziere donnaiolo di su di su amico mio te le passo tutte conosco nicolino respi e condivido i tuoi apprezzamenti e la tua indignazione ma non credere con questo chi gli dia torto da dunque torto a te no alla signorina anita neppure oddio lasciami dire lasciami seguire il mio metodo credi amico mio che il tuo caso è vecchissimo di nuovo di originale qui non c'è altro che il mio metodo e la spiegazione che ti darò proseguiamo con ordine il luogo e il fatto la spiaggia di ansio d'estate in una notte di luna me ne hai fatto una tale descrizione che non mi arrischio a descriverla anch'io soltanto troppe stelle e caro con la luna quasi in quinta decima se ne vedono poche ma un poeta può anche non badare a queste cose che sono di fatto un poeta può veder le stelle anche quando non si vedono e viceversa può non veder tante altre cose che tutti gli altri vedono il commendator ballesi ha preso in affitto un villino sulla spiaggia e la signorina anita è con la mamma ai bagni occupato a roma il commendatore va e viene nicolino respi è fisso ad anzio per i bagni per la bisca ed ha ogni mattina in acqua e ogni sera al tappeto verde spettacolo delle sue bravure la signorina anita ha bisogno di smorzare la fiamma dello sdegno e si induce a perciò molto nel bagno non può competere certamente con nicolino respi ma tuttavia da brava nuotatrice una mattina s'allontana in gara con lui dalla spiaggia vanno e vanno tutti i bagnanti seguono ansiosi dalla spiaggia a quella gara prima ad occhio nudo poi coi binocoli la mamma ad un certo punto non vuole più guardare comincia a smaniare a trepidare oddio come farà adesso la figliuola a ritornare a nuoto da così lontano certo la lena non le basterà oddio oddio dov'è dio com'è lontana non si vede più bisogna mandare subito un aiuto per carità una lancia una lancia qualcuno subito in aiuto e tanto fa e tanto dice che alla fine due bravi giovanotti balzano eroicamente su una lancia e via a quattro remi santa ispirazione perché la signorina anita poco dopo che i giovani sono partiti è colta da un crampo a una gamba e da un grido nicolino respi accorre con due bracciate e la sorregge ma la signorina anita è per svenire e s'aggrappa il collo disperatamente nicolino si vede perduto sta per affogare con lei nella rabbia per lasciarsi andare le dà un morso feroce al collo allora la signorina anita s'abbandona inerte e gli può sostenerla le forze stanno per mancargli quando la lancia sopravviene il salvataggio è compiuto ma la signorina anita deve curarsi per più di una settimana del morso al collo di nicolino respi sono impressioni che rimangono marino mio per parecchi giorni la signorina anita appena muove il collo non può negare che nicolino respi morde bene e quel morso non può dispiacerle perché deve adesso la sua salvezza tutto questo è veramente antefatto eppure no forse è e non è perché tutto sta dove e come si tagliano i fatti quando tu marino mio nella magnifica sera di luna arrivasti ad anzio con la morta nel cuore per avere un ultimo abboccamento con la signorina anita già ufficialmente fidanzata al commendator ballesi ella aveva ancora nel collo l'impressione dei denti di nicolino respi per tua stessa confessione ella ti seguì docile lungo la spiaggia si perdette con te nella lontananza delle sabbie deserte fino al grande scoglio inarenato laggiù laggiù tutti e due sotto la luna a braccetto inebriati dalla brezza marina storditi dal sommesso perpetuo fragorio delle spume d'argento che le dicesti lo so tutto il tuo amore tutto il tuo tormento e le proponesti di ribellarsi all'infame imposizione di quel vecchio odioso e di accettare la tua povertà ma è l'amico mio infiammata sconvolta straziata dalle tue parole non poteva accettare la tua povertà voleva sì invece accettare il tuo amore e vendicarsi con esso anticipatamente quella sera stessa dell'infame imposizione del vecchio che sopra di lei così da usuraio voleva pagarsi dei lunghi benefici tu onestamente nobilmente le hai impedito quella vendetta amico mio ti credo sarai scappato via come un pazzo ma alla signorina anita rimasta sola lì sulla sabbia all'ombra dello scoglio non sembrasti un pazzo te l'assicuro io in quella fuga scomposta lungo la spiaggia sotto la luna sembrasti uno sciocco e un villano e purtroppo povero marino su quello scoglio quella sera e a godersi zitto zitto in grazia delle tasche vuote il bel chiaro di luna e poi anche lo spettacolo della tua fuga c'era nicolino respi quello del morso e del salvataggio gli bastarono tre parole e una risata di lassù che sciocco è vero signorina è saltato giù tu avesti poco dopo la soddisfazione di sorprendere insieme col commendatore ballesi arrivato tardi da roma in automobile nicolino respi sotto la luna a braccetto con la signorina anita tu nell'andata e lui nel ritorno più dolce l'andata o il ritorno ecco ed ecco amico mio che viene adesso il mio punto originale tu credi amico marino d'aver sofferto un'atroce disillusione perché hai veduto all'improvviso la signorina anita orribilmente diversa da quella che conoscevi tu da quella che era per te sai ben certo adesso che la signorina anita era un'altra benissimo un'altra la signorina anita è di certo non solo ma anche tante e tante altre amico mio quanti e quanti altri sono quelli che la conoscono e che lei conosce il tuo errore fondamentale sai dove consiste nel credere che pur essendo un'altra per come tu credi e tante altre per come credo io la signorina anita non sia anche tuttora quella che conoscevi tu la signorina anita è quella e un'altra e anche tante altre perché vorrai ammettere che quella che è per me non sia quella che è per te quella che è per sua madre quella che è per il commendatore ballesi e per tutti gli altri che la conoscono ciascuno a modo suo ora guarda ciascuno per come la conosce le dà è vero una realtà tante realtà dunque amico mio che fanno realmente e non per modo di dire la signorina anita una per te una per me una per la madre una per il commendatore ballesi e via dicendo pur avendo l'illusione ciascuno di noi che la vera signorina anita sia quella sola che conosciamo noi e anche lei anzi lei soprattutto l'illusione di essere una sempre la stessa per tutti sai da che nasce questa illusione amico mio dal fatto che crediamo in buona fede d'essere tutti ogni volta in ogni nostro atto mentre purtroppo non è così se ne accorgiamo quando per un caso disgraziatissimo all'improvviso restiamo agganciati e sospesi a un atto solo tra i tanti che commettiamo ci accorgiamo bene voglio dire di non essere tutti in quell'atto e che un'atrocia ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo tenerci agganciati e sospesi ad essi all'agonia per l'intera esistenza come se questa fosse tutta sommata in quell'atto solo ora questa ingiustizia appunto stai commettendo tu amico mio contro la signorina anita hai sorpresa in una realtà diversa da quella che le davi tu e vuoi credere adesso che la sua vera realtà non sia quella bella che tu le davi prima ma questa brutta in cui l'hai sorpresa insieme al commendatore ballesi di ritorno dallo scoglio con nicolino respi non per nulla amico mio guarda tu non mi hai parlato del nasino all'insù della signorina anita quel nasino non ti apparteneva quel nasino non era della tua anita erano tuoi occhi notturni il cuore appassionato la raffinata intelligenza di lei non quel nasino ardito dalle pinne piuttosto carnosette quel nasino fremeva ancora al ricordo del morso di nicolino respi quel nasino voleva vendicarsi dell'odiosa imposizione del vecchio commendatore ballesi tu non gli hai permesso di fare con te la sua vendetta e allora essa l'ha fatta con nicolino chissà come piangono adesso quegli occhi notturni e come sanguina quel cuore appassionato e come si rivolta quella raffinata intelligenza voglio dire tutto quello che di lei appartiene a te ah credi marino fu assai più dolce per lei l'andata con te allo scoglio che il ritorno da essi con nicolino respi bisogna che tu te ne persuada e ti disponga a imitare il commendatore il quale vedrai perdonerà e sposerà la signorina anita ma non pretendere che ella sia una e tutta per te sarà una e tutta per te sincerissimamente e un'altra per il commendatore ballesi non meno sinceramente perché non c'è una sola signorina e signora anita amico mio e non sarà bello ma è così e e procura che nicolino respi mostrando i denti non vada a far visita a quel nasino all'insù grazie a tutti